Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Chiusi e Incisa Reggello, tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e tra Firenze Sud e Barberino del Mugello. Sulla direttissima, rallentamenti tra Aglio e il Bivio A1 variante. In direzione Roma, per traffico intenso, code in uscita a Firenze Sud. Sulla A11 in direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla FIPLI per lavori, in direzione Firenze, due chilometri di coda tra Empoli Est e Ginestra. In direzione Mare, un chilometro di coda tra Ginestra e Montelupo. Per traffico intenso, in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!